L'ultima volta che la Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti è venuta a Salerno è stata in occasione dell'incendio che fermò l'impianto di compostaggio. Oggi la Commissione parlamentare di inchiesta torna a Salerno per un sopralluogo sui traffici illeciti di abiti usati, gli incendi proprio nei impianti di trattamento e stoccaggi di rifiuti, ma anche per parlare di dragaggio dei porti. La delegazione guidata dal Presidente Stefano Vignaroli sarà accolta in prefettura a Salerno il 2 e 3 luglio prossimi. Dopo aver effettuato un sopralluogo al porto di Salerno ci sarà una visita anche al sito sequestrato dalla Guardia di Finanza a Cercola per presunti illeciti nella gestione dei rifiuti. Il 3 luglio l'audizione che si terrà in prefettura dove la Commissione ascolterà tra gli altri il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno Giuseppe Menna ed il Presidente dell'autorità portuale di Salerno Pietro Spirito. I territori di Napoli e Salerno sono al centro dell'attività di approfondimento della Commissione su numerosi temi, ha fatto sapere il Presidente della Commissione Ecomafia Stefano Vignaroli. Il lavoro è legato sia a possibili illeciti che ruotano attorno alle aree portuali, sia alla depurazione delle acque, sia ai traffici illeciti di abiti usati, ambito quest'ultimo in cui la campagna si è rilevata uno snodo di grande importanza. Tutte criticità che la Commissione sta indagando con attenzione per contribuire a contrastare l'illegalità ambientale e promuovere energie positive che la campagna ha.